il vi stato marzio antonio siete i campioni bellissima sensazioni bellissime poi vincerla così siamo 2 a 0 sopra loro sono stati bravi a recuperarci noi siamo stati bravi a compattarci anche nel finale siamo stati sotto pressione però devo dire che rigori alla fine ce la siamo meritata anche per il percorso tutti i ragazzi tutti i miei compagni veramente un gruppo bellissimo quindi ce lo meritavamo una partita difficile siete avete iniziato col piglio giusto poi vi siete fatti recuperare ma alla fine siete riusciti a vincere eh sì appunto come ti dicevo siamo stati bravi proprio a diciamo a difenderci a fare scudo a stare compatti questa è stata la forza di questa squadra durante tutto quest'anno una bella squadra un bel gruppo si vede che c'è anche tanto allenamento dietro sì no certo poi tutto l'anno a fare partite il campionato purtroppo siamo stati sfortunati che abbiamo perso nei playoff del campionato a inizio anno purtroppo non c'erano tutti e non siamo riusciti ad andare come volevamo ma nelle ultime partite siamo riusciti a dare il meglio